Da dove nasce l'idea di un film che riesce davvero, in modo ammirevole, a coniugare tanti generi diversi e anche tante differenti situazioni? L'idea nasce dal periodo in cui ero studente alla scuola di cinema in Polonia e ho cercato quindi di combinare le due culture, questi due mondi, perché io sono peruviano però ho vissuto per anni in Polonia, quindi volevo sì trasmettere l'idea di un immigrato, insomma in un altro paese cosa vive, cosa sente, però anche e soprattutto si tratta anche di una visione del mondo diversa, quindi come persona, come una lingua diversa e in generale una visione del mondo diverso. Qual è stata la sfida più grande da interprete a partecipare a un film come questo? La difficoltà principale è dovuta al fatto che non parlo, o meglio non parlavo lo spagnolo, mentre il film è stato girato interamente in spagnolo, quindi ho dovuto senz'altro imparare le frasi che mi toccavano per cofione e ci sono riuscita, ad ogni modo ho poi imparato anche la lingua e poi non riuscivo a immaginare come sarebbe stata la parte peruviana del film perché una parte è stata girata in Perù e io non ero coinvolta in quella parte delle riprese. Qual è la tua principale ispirazione per l'era olvidata? Una buona domanda, innanzitutto c'era l'idea di questo mix, come già detto, ma poi soprattutto è nato dall'aver visto le location, infatti sia in Perù, in una parte delle foreste in alta quota e poi anche in Polonia dove ci sono diversi castelli, quindi essere al di sopra quasi della componente umana, vedere luoghi antropizzati e luoghi naturali che dialogano tra di loro, ma anche un po' capire che l'essere umano a volte si trova in dei posti dove non dovrebbe esserci, quindi è un po' quello che è stata un po' l'idea, l'ispirazione per il film. Qual è la caratteristica che prezzi di più del tuo personaggio? Beh, è una donna molto coraggiosa, molto forte, ma anche molto altruista, anche se prende dei rischi, ci sono delle situazioni difficili, è una tipa, diciamo, tosta, quindi è coraggiosa e altruista. Ci racconti come hai fatto la ricerca delle location? Beh, la prima idea che ho avuto è quella di girare un film in un castello in Polonia, questa in effetti mi era già venuta quando ho studiato per il diploma, quindi mi ero innamorato di un castello e volevo girare lì, ma poi per vari motivi non ci siamo riusciti, però sapevo che avrei voluto girare un film in quei luoghi e poi ero alla ricerca comunque di un film, scusate, di un posto, di una location che fosse altrettanto forte, altrettanto potente, questa volta in Peru. Ho cercato tre, quattro boschi di pietra, quindi luoghi naturali che però vengono definiti così, ne ho visitati due, ma poi quando ho trovato Guayai in uno degli altipiani, immediatamente sono stato colpito da questo posto così forte che era forte al pari del luogo costruito dall'essere umano, quindi un luogo naturale ma almeno altrettanto di impatto rispetto a quello costruito dall'essere umano.